benvenuti siete pronti ad esplorare una delle più antiche foreste del trentino attenzione non si tratta di una foresta qualunque come avrete già capito guardandovi attorno il nostro viaggio ci porterà sott'acqua ci troviamo nel lago di tovel più precisamente siamo pochi metri a largo della spiaggetta nord il punto di arrivo per chi viene da tuenno ma prima di immergerci in queste gelide acque effettuiamo un ultimo controllo della nostra attrezzatura tutto deve essere in ordine perché stiamo per avventurarci alla scoperta di una foresta sommersa ecco ora che tutto è a posto possiamo partire già a pochi metri dalla superficie incontriamo alcuni tronchi appartengono però ad esemplari coricati e molto vicini alla riva quindi non possiamo essere sicuri che si tratti effettivamente di alberi della foresta sommersa potrebbero essere semplicemente alberi scivolati in acqua quando il lago si era già formato le piante che stiamo cercando invece crebbero in quest'area quando il lago non c'era o perlomeno non aveva ancora assunto la sua conformazione attuale ma ora sarà meglio muoversi perché il viaggio che ci aspetta è ancora lungo a a guidarci nella nostra esplorazione sarà questa sagola il nostro filo di arianna per non perderci nelle profondità del lago dove a volte la visibilità può essere molto scarsa finalmente dopo quasi dieci minuti a pinneggiare scorgiamo il primo albero radicato ci troviamo ormai a 20 metri di profondità ed il tronco che abbiamo davanti è quello di un abete bianco nato nel 1400 e morto nel 1596 attenzione non si tratta di una data casuale come quasi tutti gli alberi della foresta anche questo esemplare nasce in epoca medievale ma muore tra il 1596 ed il 1597 anno in cui deve essere avvenuto il distacco di un grosso fronte di frana che bloccando il normale corso del torrente tresenga deve aver causato la formazione del lago di tovel così come noi oggi lo conosciamo ma ora proseguiamo nel nostro viaggio perché stiamo per raggiungere uno degli alberi più longevi tra quelli che si sono conservati eccoci finalmente al cospetto di uno dei patriarchi della foresta l'esemplare di abete bianco di fronte a noi è nato nel 1197 ed è vissuto per ben 401 anni nel corso della sua lunga vita quest'albero ha sviluppato un tronco del diametro di più di 80 centimetri la sua mole maestosa lo fa risaltare all'interno del piccolo raggruppamento di esemplari radicati che costituisce uno dei punti più spettacolari dell'intera foresta sommersa si tratta sicuramente di uno scenario molto affascinante nel quale però le radici esposte di un albero coricato rimarcano la desolazione quasi spettrale dell'ambiente circostante il cui aspetto sinistro ci lascia con una sensazione di leggero disagio abbandoniamo allora questo luogo di inquietante bellezza e attraversiamo la grande distesa di alghe che ci porterà ad un secondo raggruppamento di alberi forse non meno spettacolare del primo a preannunciare questa nuova concentrazione di tronchi radicati troviamo ancora una volta le spettrali radici di un grosso esemplare caduto alla sua destra in lontananza possiamo già intravedere l'inconfondibile sagoma di uno degli esemplari più singolari della foresta sommersa un faggio biforcuto questo albero dalla forma così particolare è un vero e proprio punto di riferimento per i subacquei che esplorano i fondali del lago di tovel come pure i grossi tronchi di faggio e abete bianco che lo circondano ma non facciamoci incantare dalla bellezza di questo silenzioso mondo subacqueo l'aria nelle nostre bombole sta per esaurirsi non ci rimane molto tempo e sarà meglio dirigerci subito verso l'ultima tappa del nostro itinerario ed eccoci qua l'ultima meta del nostro viaggio nelle profondità del lago di tovel l'albero cavo si sa poco di questo esemplare radicato proprio a causa della sua peculiarità principale ovvero le numerose cavità all'interno del suo tronco che ne rendono impossibile la trivellazione e dunque il campionamento per scopi scientifici così di questo esemplare ci sono ignoti sia la specie di appartenenza sia l'età ciò nonostante la sua forma particolare lo rende uno degli alberi più affascinanti dell'intera foresta sommersa ora però è veramente giunto il momento di concludere il nostro viaggio l'aria nelle nostre bombole è quasi terminata è il caso di risalire verso riva ed effettuare una pausa di sicurezza per scongiurare qualsiasi problema da decompressione qui all'ombra delle fronde che intravediamo da sotto il pelo dell'acqua concludiamo la nostra avventura non ci resta che salutarvi nella speranza di essere riusciti a farvi viaggiare al nostro fianco nel mondo segreto che le gelide acque del lago di tovel custodiscono da più di 400 anni un'antica foresta silenzioso testimone di come la natura che ci circonda viva di un equilibrio precario e mutevole in cui anche un singolo episodio come una piccola frana può creare grandi sconvolgimenti